Ciao a tutti, oggi ho voglia di provare a giocare un po' con una Psywheel, un piccolo oggetto fatto con della carta stagnola, una gomma e un ago. L'obiettivo è quello di riuscire anche brevemente a muoverla, semplicemente con l'energia che esce dalle mani. La facciamo calmare, la mettiamo perfettamente in equilibrio e proviamo. Un po' di concentrazione, sto lontano anche per non influenzarla con l'alito. Ok. Grazie. 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 Salute. Grazie a tutti.